Siamo davanti a un liceo romano e siamo qua per sentire quali sono le materie che i ragazzi preferiscono e quali invece odiano. Allora, materia preferita è fisica, matematica e disegno. Detesto sinceramente il latino. Il latino perché la ritengo una materia senza senso e perché con le lettere non sono mai stata, con le lingue non sono mai state il mio forte. Mentre matematica e fisica mi piacciono perché sono qualcosa di sicuro, sono formule e ragionamenti. La mia materia preferita è storia, la ritengo interessante perché per conoscere un popolo penso che la storia sia il mezzo migliore per conoscerla. Riguardo alla materia che odio ritengo matematica, non tanto perché sebbene sia utile non mi coinvolge molto con la materia, semplicemente questo. La materia preferita è matematica perché comunque è differente dall'italiano e quella meno preferita è fisica perché non si capisce niente. Non lo so, è storia un po' di meno però arte di più di tutto. L'inglese, mi piace molto l'inglese. Odiata? Storia. Vabbè storia. Che è una passione? Storia perché... Beh, non lo so, è una passione, non lo so. Invece odiata? Odiata, odiata matematica, matematica non la capisco proprio, non ci arrivo proprio. Materia preferita inglese, letteratura inglese, vabbè, da, ce sta. Odiata? Odiata quelle che non sanno fare, quindi quando i professori non li sanno spiegare purtroppo arrivi ad odiarla, quindi magari ho avuto professori che non hanno saputo spiegare nulla di storia, quindi te l'hanno fatto odiare però è un peccato. Più diata latino, perché è inutile, non serva a niente, né ora né dopo, quindi. Poi preferita... ma non c'è diciamo. Allora, materia preferita geografia astronomica forse. Più diata... Qua bisogna pensarci, non lo so, forse filosofia, però anche matematica. Matematica preferita e odiata inglese, però devo andare, perché? Perché mi è sempre piaciuta matematica, non so perché. Grazie, ciao.